Scusami per il ritardo, che stavi leggendo? Stavo leggendo un ultimo rapporto sulla Zomafia, il rapporto del 2016. Zomafia? Cioè? La Zomafia è un fenomeno criminale tramite il quale le associazioni a delinquere lucrano sulla pelle dei nostri amici animali. Pensiamo, io leggevo proprio il rapporto Zomafia e mi sono resa conto che ci sono per esempio macellazioni clandestine, bracconaggio, vendita di animali, presi da allevamenti non autorizzati, una serie di attività quasi infinite tramite le quali proprio questi criminali si arricchiscono enormemente. Mamma mia, io non pensavo tutto questo, anche perché non se ne sente molto parlare in giro. Purtroppo mi sono resa conto che è un fenomeno di cui normalmente non si parla, infatti io stessa sono rimasta molto stupita da quello che ho letto. Finalmente sabato 5 novembre ci sarà un convegno dove parleranno per la prima volta della Zomafia Messina. Io assolutamente non voglio mancare. Vieni con me? Sì, certo che vengo, ma dove lo fanno? Sarà al Salore delle Bandiere, al municipio, alle ore 9, quindi possiamo vederci comodamente, insomma un po' prima. Ah, perfetto, benissimo. Allora ora andiamo, così magari io lo spiego anche agli altri, più siamo meglio è assolutamente, andiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.